Manuel Belletti Italia 35 anni ho iniziato a correre in bici praticamente nell'ultima nell'ultima stagione da G6 e poi è stato amore a prima vista e ho continuato fino fino ad oggi molto è andata molto bene e siamo un gruppo affiatato abbiamo legato subito molto con i nuovi compagni e sono sicuro che sarà sarà una grande stagione questa bici mi ha dato subito ottime sensazioni perché penso che che abbia tutte le caratteristiche per supportarci al meglio è molto leggera reattiva rigida va bene in salita va bene in volata quindi ha tutte le carte in regola per supportarci al meglio io ho avuto la fortuna ho avuto la fortuna di correrci assieme perché comunque questo è il mio quattordicesimo anno da professionista quindi ho corso con loro e li ho sempre ammirati a volte anche da vicino in corsa e per me è una grande emozione correre su questa bici perché è stata concepita e creata dal nulla da due dei più grandi esponenti del ciclismo spero spero che che si possa tornare il più possibile alla normalità e poter lavorare e questo significherebbe significherebbe tanto vincere vincere per un per la squadra e per tutti i tifosi che che ci seguono è molto importante iniziare la stagione nel migliore dei modi e noi sicuramente daremo il massimo perché questo avvenga